Appunto, buongiorno a tutti, sono le 12.15 del 15 dicembre 2021, non abbiamo nessun'auto più in attesa, la fila si viene a creare per il semplice fatto che sono aumentati il numero dei tamponi che facciamo giornalmente, così come si verificava nelle precedenti ondate, stiamo lavorando per ridurla quanto più possibile, infatti alle 12.15 di oggi nessuna macchina è più in attesa, nessun paziente più aspetta il tampone. Il numero dei tamponi che effettuiamo è più che raddoppiato presso l'unità screening che si trova alla palazzina C del Sant'Elia, per cui noi la fila la vediamo come un evento positivo, un maggior numero di persone che si scrina, un maggior numero di focolai preventivamente identificati, una minore possibilità che eventuali focolai insorgano nuovamente. Questo è l'approccio che ci deve guidare durante l'emergenza pandemica, se cresciamo con il numero dei tamponi è normale che ci sia un po' di fila, non è dovuto al disservizio perché il personale è stato opportunamente potenziato, ma è dovuto ai tempi tecnici di esecuzione del tampone.